Il Tempio della Coca-Cola, si potrebbe chiamare così il museo allestito a Monte Calvo in Foglia da Guido Alessandrini che assieme a sua moglie dal 1983 colleziona tutta l'oggettistica che gravita attorno al celebre marchio americano. All'interno dello spazio museale, collocato in un appartamento garage che ricorda la forma di un pub, la bevanda viene raccontata e celebrata partendo da tutto ciò che è stato realizzato in suo onore. Ed essendo la bibita più famosa del mondo, di oggetti ce ne sono, Guido ne espone oltre 6.000. Sono il secondo in Italia come oggettistica della Coca-Cola. Le persone qui trovano un po' di tutto, dai vassoi alle bottiglie ai quadri, agli specchi, di tutto di più degli oggetti della Coca-Cola che Coca-Cola ha fatto in 40 anni. Bottiglie, lattine, portachiavi, di tutto di più. Gli oggetti più particolari sono il frigo rapozzetto che veramente mi ero innamorato ma costava troppo. Le bottiglie degli anni 1930, poi c'ho dei vassoi di Tarzan e Jay e poi un po' di tutto della Coca-Cola, degli oggetti della Coca-Cola sono innamorato, di tutto sono innamorato praticamente. Guido per procurarsi gli oggetti del mondo Coca-Cola ha viaggiato molto e ha amici dislocati in varie parti del mondo che fanno dono di frequente di materiali da noi introvabili. Alcuni cimeli vengono addirittura da oltreoceano, per la sua attività di appassionato del noto brand sono stati dati vari riconoscimenti. Nel 1886 nasce da Perberson la Coca-Cola praticamente ad Atlanta, poi Chandler l'ha industrializzata nel 1899, quindi penso che sia, no penso, è la bibita assoluta più grande del mondo. Fra i pezzi più che c'ho a cuore praticamente c'ho il vassoio di Tarzan e Jay del 1936 e le due bottiglie che praticamente erano il self che facevano le bollicine alla Coca-Cola praticamente del 1930. Non c'è neppure un angolo nel museo in cui non vi sia la Coca-Cola, anche il bagno vuole celebrarla. Se c'è qualcuno che vuole andare in bagno è sempre occupato perché c'è una ragazza che sta facendo il self bisogna anche chiedere il permesso, bisogna chiedere, che si vesta e che esca perché è sempre lì.